Salve, bentrovati a tutti, allora alle porte del Natale facciamo un veloce punto sulla situazione dei principali indici di borsa partendo dal Nasdaq 100 con un trend di fondo chiaramente ancora innegabilmente rialzista ma abbiamo avuto dal mese di novembre una serie di massimi che possiamo vedere decrescenti e sostanzialmente il Nasdaq 100 va a trovarsi in una situazione molto chiara, un canale rialzista, abbiamo avuto una falsa rottura al rialzo con poi una candela che ha formato un pattern ribassista e per ora come accennato abbiamo dei massimi a decrescere, siamo su un livello supportivo di brevissimo che potrebbe dare una nuova spinta rialzista ma chiaramente poi il livello dei 16.400 punti come vediamo è una resistenza importantissima. Su un'eventuale rottura al ribasso invece dei 15.540 punti potremmo semplicemente vedere la prosecuzione fino a area 14.8-14.900 punti sulla base del canale dove sarebbe poi interessantissimo andarsi a posizionare a valutare un ingresso long quindi quello a favore del trend primario. Nel breve comunque dobbiamo monitorare i 15.550 punti la cui tenuta potrebbe dare una nuova spinta rialzista con un primo target ai 16.400. Siamo sostanzialmente quindi in una fase di congestione in questo periodo prenatalizio tra i 15.550 e appunto i 16.400 punti che sono una resistenza importantissima. Se dovesse essere testata con un pattern o con una candela ribassista potrebbe essere anche interessante valutare operatività al ribasso di breve. Abbiamo quindi una situazione dopo un lunghissimo periodo di rialzo di profonda incertezza. Questi sono i livelli appunto come detto da attenzionare. Doveroso dare anche uno sguardo al nostro indice al Futsimib e qui lo andiamo a vedere su un time frame settimanale dove si evince come il trend rialzista evidenziato da questa trend line che appunto trova varie volte dei supporti che hanno accompagnato il movimento sia stato poi rotto nella settimana della notizia della variante Omicron e poi si è andati come da analisi tecnica a ritestare perfettamente il livello dei 27.000 punti che ha fornito una resistenza dinamica validando questa trend line e ora siamo anche in questa situazione come per il Nasdaq in una fase di discreta incertezza. Questa resistenza è ancora valida. Qui abbiamo queste tre candele che formano un pattern evening star quindi abbiamo un pattern ribassista candela birish pullback e quindi per ora nel breve nel breve il sentiment del Futsimib sembra ancora negativo. Sarà interessante andare a vedere se dovessimo avere un nuovo retest in area 25.350 punti su questo livello che ha fornito per varie volte un supporto perché ecco in questo caso potremo andare a valutare operatività rialzista a favore di quello che è il trend primario. Va però ricordato che questo movimento pesante di ribasso con il pullback preciso sulla trend line per ora sembra avere la meglio. Nel brevissimo quindi crediamo sia più opportuno attendere eventuali ribassi di breve in area 25.250-25.300 punti per poi andare a fare uno stock picking e selezionare i titoli con analisi tecnica che offrano livelli supportivi interessanti per riposizionarsi long e riprendere la spinta rialzista. un occhio doveroso anche a sua maestà il DAX chiamiamolo così siamo anche sul DAX con time frame weekly livello importantissimo ai 16.150 punti quindi sui massimi assoluti dove abbiamo avuto questa resistenza statica con una falsa rottura però avvenuta con una shooting quindi con una candela di stampo ribassista e poi la candelona chiamiamola Omicron che ha invertito nel breve periodo del trend e anche qui la situazione è chiara e omologa a quella del nostro indice di borsa vediamo come in maniera altrettanto precisa e millimetrica rottura e pullback e anche qui situazione di incertezza si è venuto a formare su DAX ricordo siamo su un time frame weekly una sorta di rettangolo quindi una fase di trading range di congestione di lungo periodo molto molto importante altrettanto precisa sarà interessante vedere un nuovo pullback ai 14.800 punti che in questo caso vediamo come siano chiaramente un livello supportivo andiamo proprio a evidenziare la trend line statica che in maniera molto molto precisa ha funzionato già per alcune settimane da support e quindi la dobbiamo tenere in considerazione i 14.800 punti se retestati saranno un interessante livello di ingresso al rialzo per ora vista la importante candela e viste le due resistenze che abbiamo al di sopra quindi la dinamica in area 15.900 e la statica appena sopra i 16.000 punti sembrerebbe più prudente attendere un eventuale ritorno ai 14.850 in ottica long vediamo come tutti gli indici dopo aver performato nell'arco dell'anno in maniera importante stiano vivendo una fase di trading range una fase di lateralità barra debolezza il trend primario resta immutato ma al momento potrebbe sembrare poco prudente riposizionarsi subito long e chiudiamo con il giappone e sul giappone è interessante vedere il time frame daily che ci offre anche in questo caso una trend line supportiva molto chiara questa questa dinamica e vediamo come anche in questo caso qui utilizziamo un grafico lineare che visivamente ci aiuta molto sia stata rotta a ribasso retestata una prima volta retestata una seconda volta e adesso c'è un nuovo tentativo di pullback ma anche sul nickey abbiamo una serie di resistenze importanti che vanno a formare proprio un'area di doppia resistenza un'area difficile da superare ai 29.200 29.300 punti abbiamo inserito anche delle medie mobili la 50 la 200 la 21 che vediamo come si stanno incrociando al ribasso e come al momento il prezzo sia al di sotto di tutte quindi anche per il nickey stessa situazione fase di trading range massimi decrescenti e potremmo probabilmente assistere forse un nuovo pullback in area 29.000 punti ma per ora sembra più probabile avere anche per il nickey una fase di riaccumulazione sulla quale sarà poi anche in questo caso interessante andare a valutare un ingresso rialzista a favore del trend principale un'area importante che graficamente sembra sicuramente valida è questa dei 27.000 punti un livello supportivo che vediamo come più e più volte è stato riconosciuto dal mercato e sul quale il mercato poi si è posizionato long quindi anche in questo caso prudente attendere attenzionare il livello dei 27.000 punti per fare operatività a favore di quello che è il trend primario sempre ricordandoci come dicono a Wall Street trend is your friend un saluto a tutti e buon trading che Grazie.